ce l'ha su con i genitori perché gli dice che le hanno nascosto il fatto che c'è stato questo Adam e gli hanno nascosto la verità sull'uomo che ama cioè ragazzi ma questa cosa può essere considerata normale cioè una persona che ti ha messo le mani addosso e ti ha fatto cadere dentro un lago è una persona uno che ti ama e due è una persona di cui tu sei ancora follemente innamorata dopo che hai scoperto tutto quello che ha fatto e a monte c'è lo stalking quello quello e quell'altro tu lo difendi ancora e vai contro la tua famiglia invece di dire alla famiglia e all'amica che poi anche lì ma l'amica dio santo no l'amica inutile cioè l'unica cosa che fa l'amica è praticamente rincontrare la madre al supermercato dopo che ovviamente fuori vabbè fuori casa sua lui la va ad accompagnare la valle di lacrime la madre che la vede di qua e di là e la madre praticamente scopre che c'è questo tizio no però fondamentalmente loro non sanno che effettivamente lui loro chiedono che sia un ragazzo insomma scapestrato eccetera eccetera ma cazzo ma l'amica al posto di starle vicino al posto di consigliarla dire guarda che questi comportamenti non sono normali eccetera eccetera che cosa fa? Niente vabbè comunque chiama l'amica incazzata come una iena dice vabbè viene a casa mia il plotone di esecuzione e si mette a fare una scenata no ma voi di qui di là ma come vi siete permessi eccetera eccetera mi avete rubato l'identità la vita io lo amavo cioè ma ma voi vi rendete conto del della cosa insana vi rendete conto che questa cosa non è normale cioè non è normale il fatto che lei vada contro i suoi genitori per un uomo che le sta facendo del male nel presente che gli ha fatto del male nel passato che una persona le ha messo le mani addosso e l'ha fatta cadere dentro un lago cioè ci rendiamo conto di questo vabbè comunque incazzata come una iena qui arriva proprio la parte clou di tutto vabbè va fuori va dentro sto parchetto su sta alta lena a un certo punto si ripresentano dal nulla perché in questo romanzo compaiono tutti dal nulla i due tizi che l'avevano tentata di violentarla all'inizio del romanzo non si sa perché casualmente passavano di lì magari volevano prendersi un gelato la vedono e tentano di insomma di fare di prenderla no e ovviamente anche qui lui appare dal nulla la salva per la seconda volta io sarò l'uomo che ti salva di qua e di là la porta al pronto soccorso e lui praticamente racconta tutta la storia lei ha raccontato il fatto che lui era quello che si scopava da qualunque che vedeva lei vestita bene di qua e di là che lui le aveva detto di no che però ci teneva bla 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 eccetera eccetera che poi si sono innamorati e per via della sua gelosia durante questa litigata lui le ha messo le mani addosso cosa ovviamente normale e l'ha mandata in coma che bella che cose belle che cose belle proprio e lei diceva beh mia madre ti veniva a trovare mia madre diceva che insomma ero innocente bla 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 eccetera eccetera poi i tuoi genitori hanno permesso hanno proibito tua madre di farmi vedere di qua e di là e poi quando ti ho rivista insomma io pensavo che tu ti fossi ricordata di me del dolore che ti ho fatto ma magari si fosse ricordata il dolore che hai fatto ma poi voglio dire scusate cioè a me se non concesso che sta tizia ha perso la memoria manco fossimo intopazio ok a me se non concesso il fatto che lui in questo passato che cosa abbastanza gravissima e voglio dire una cosa del genere non ci si può passare sopra ok ma fai conti col presente cioè lui ti sta veramente stalkerando ti ha stalkerata ti ha usata ti ha presa ti ha gettata ti ha fatta di qua e di là eccetera eccetera cioè voglio dire era anche giusto che lui andasse in galera perché fa passare il tutto come lui poverino che impreda questa cosa ha avuto una reazione cioè come se si volesse trovare una giustificazione a quello che ha fatto cioè ragazzi lui l'ha messo le mani addosso e l'ha mandata in coma cioè e lui doveva starci in galera e non capisco come quando poi è arrivata la polizia lì al locale non abbia fatto niente cioè io non sono un avvocato però so che uno se metti le mani addosso a un poliziotto non è che te la passi bene poi in america figurarsi due se sei già un ex galeotto sei già schedato voglio dire non è che esci così tanto per e tre per quale motivo bisogna giustificare questo atto del fatto che lui comunque vabbè in galera non ci doveva stare di qua e di là eccetera eccetera cioè ma ci rendiamo conto che è tutto sbagliato cioè è tutta una cosa malata cioè io non sto criticando l'autrice non sto criticando il libro però voglio dire il finale di questi romanzi è problematico perché non deve essere sempre vabbè vissero felici e contenti come succede in questo romanzo cinque mesi dopo vabbè io ti amo ci amiamo ci sposiamo di qua di là cioè rendiamoci conto del fatto che non è salutare questa cosa cioè il romanzo si poteva tranquillamente svolgersi in questa maniera arrivare alla fine e lei prendeva consapevolezza nonostante tutta la fantascienza prendere consapevolezza del fatto che questi comportamenti non sono sani che questi comportamenti non devono essere fatti passare per cose romantiche e troncare la relazione è questo che si doveva fare è questo che lei doveva fare di sensato non ah vabbè ci amiamo di qua e di là è tutto passato perché l'amore guarisce qualsiasi cosa cioè ci rendiamo conto che lui aveva veramente tantissime occasioni per ucciderla che avrebbe potuto tranquillamente farlo cioè lei al posto di giustificare la sua famiglia e dirle voi avete fatto bene a insomma a fare a tenermi lontana da questo tizio eccetera eccetera lei va contro la sua famiglia dice che le ha portato loro hanno portato via a lei la persona che amava di qua e di là cioè tutto questo non è sano presentare un romanzo del genere mi rendete conto che non è una cosa sana cioè io posso capire se ci sta un romanzo con il triangolo amoroso che lei si innamora di uno di un altro poi deve fare una scelta e buonanotte un'altra ma banale però uno dice vabbè nulla di che però cavolo presentare questi modelli cioè il fatto che lui la strattoni le vada in casa la prenda di qua e di là e poi finisce tutto con vabbè ci amiamo e bissofici e contenti cioè solo io mi rendo conto che queste cose sono gravi che queste cose sono veramente diseducative per un romanzo del genere ma al di là delle scene di sesso descritte malissimo oddio male ma non malissimo assolutamente però voglio dire ci vuole anche una consapevolezza di quello che si scrive cioè bene lui alla fine voleva ritornare nel suo passato voleva il personale del passato che voleva ritornare nel suo presente che voleva in qualche modo farla rinnamorare di lui ma poteva usare tanti modi cioè poteva usare tranquillamente un approccio diverso non quello dello stalker non quello del malato del killer potenzialmente seriale invece no cioè lui si innamora di questo fatto del fatto che lui è la protetta la salvata sì amore però voglio dire cioè chi dice che durante la notte questo non si alza e te dà una coltellata cioè è tutto tutto sbagliato proprio il quello che viene presentato cioè il fatto che lei si innamori del fatto che lui abbia questi comportamenti che sono malsani sono diseducativi sono qualcosa che si dovrebbe veramente condannare e non esaltare a dire oh mio dio che belli di qua di là perché io non penso che l'autrice in una situazione del genere dica oh mio dio mi sono innamorata di sto tizio cioè io penso che l'autrice abbia un po di salinzucca da prendere sul telefono e chiamare la polizia se le successe qualcosa del genere ma penso che sia normale una cosa normale vabbè comunque fine della fiera comunque sti incubi si sono risolti la nostra cara amica sta col nostro stalker e penso che finisca così e buonanotte ma non so se le sta incinta non rimane incinta mi interessa vabbè comunque fatto sta che è uno stand alone quindi non avremmo poi il fatto che si mollano si prendono di qua di là perché insomma mia paura era un po quella no magari se si fossero mollati e avrebbe scritto un sequel che nel sequel lui magari la uccideva e lui andava poi a storie maledette poteva essere interessante però è meglio che questa questo brobrio sia finito in questa maniera molto bene spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere che cosa ne pensate riguardo a questo ovviamente qui non si sta offendendo nessuno non si sta offendendo l'autrice non si sta offendendo i fan si sta solamente palesando che obiettivamente queste cose sono diseducative però la gente ormai capisce quello che vuole comunque spero che vi siete fatte quattro risate in questi 40 passaminuti io vi saluto vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima puntata ciao